Sono arrivati da tutta Italia molti in sela alla propria moto per rendere così omaggio a uno dei più grandi piloti di rally italiani, Fabrizio Meoni, tragicamente scomparso l'11 gennaio 2005 a Kifa in Mauritania a 47 anni per una caduta durante la Parigi Dakar. È stato infatti inaugurato domenica 14 maggio a Castiglion Fiorentino, la sua città, davanti alla vedova Elena e Figli, il monumento intitolato a Meoni, realizzato dallo scultore Lucio Minigrilli su iniziativa del comune, del motoclub intitolato proprio a Fabrizio ed infine della fondazione che ne porta avanti la missione di sostegno ai bambini africani. Una scultura in bronzo che raffigura Meoni in procinto riscava al caro una duna in sella alla sua KTM, numero uno con la quale aveva vinto le edizioni 2001-2002 della Parigi Dakar. A svelare l'opera il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli salutato dal suono delle moto KTM che sono poi partite in un corteo sfilando per il centro cittadino.